Incontro istituzionale questa mattina a Montesilvano per il sottosegretario all'istruzione Rossano Sasso. A riceverlo il sindaco Ottavio De Martinis. Diversi temi affrontati. Scuola, mascherine, insegnanti. In classe con o senza mascherine? Allora, il punto è questo. È chiaro che noi dobbiamo sempre stare attenti a quelli che sono gli indici, a quelli che sono i pareri degli esperti. Ad oggi potremmo tranquillamente entrare a scuola senza mascherina. Due giorni fa sono state pubblicate finalmente in gazzetta ufficiale le linee guida sugli impianti di reazione che hanno visto il sottoscritto e la Lega in particolare sulle baricate per due anni. Purtroppo noi scontiamo l'incapacità politica di un ministro della salute che si chiama Roberto Speranza che ce le ha mandate con cinque mesi di ritardo. Ora c'è un problema però che è quello delle coperture economiche dove sinceramente io ho più volte sollecitato sia il presidente che il ministro dell'istruzione Bianchi però purtroppo nel decreto aiuti non ci sono state le risorse che noi speravamo. Mi auguro che la prossima settimana in un successivo decreto si possano stanziare ulteriori risorse dopo quelle che grazie alla Lega sono state stanziate nel decreto sostegno 1 a marzo. Circa 150 milioni di euro. È chiaro che dipende anche dalle comunità locali per cui chiederò al presidente della regione Marsilio di fare in modo che si possano stanziare anche a livello locale. Per cui gli impianti di reazione sono fondamentali, gli impianti di ventilazione meccanica sono fondamentali. Quindi il sopralluogo all'istituto comprensivo Troiano-Delfico che grazie al finanziamento ottenuto col bando PNRR edilizia scolastica sarà totalmente riqualificato. Dove c'è un sindaco della Lega c'è un progetto che vince e prende i finanziamenti del PNRR. E quindi fra qualche settimana ci saranno anche le graduatorie per la costruzione di nuovi asili. La presenza della Lega al governo è soprattutto per questo, per cercare di spendere nel migliore dei modi possibili i soldi che l'Unione Europea ci ha dato in prestito. Perché ricordiamolo che il PNRR non è soldi dati gratuitamente, sono soldi che i nostri figli, i nostri nipoti dovranno restituire. Quando saremo al governo, manca poco, come centrodestra e la Lega guiderà il Ministero dell'Istruzione, noi pensiamo che la prima cosa da fare sia assorbire il precariato storico. La seconda è adeguare, adeguare, non aumentare attenzione, adeguare lo stipendio degli insegnanti alla media dei loro colleghi europei e soprattutto al costo della vita. Un maestro o una maestra prende 1300 euro al mese. Questo stipendio due anni fa aveva un valore, oggi, che è aumentato tutto, ha sicuramente un valore molto più basso. Gli insegnanti meritano maggiore rispetto, sinceramente.